Il play-out è un campionato a parte, quindi non dobbiamo pensare alle partite del campionato, dobbiamo solo azzerare il campionato che abbiamo fatto perché, come ripeto, è stato un campionato comunque dove abbiamo avuto delle difficoltà senza dubbio, però ora siamo in questa situazione, non possiamo piangerci addosso, ripeto, prendiamo questa settimana per ricaricare le pile e dalla prossima staremo sul pezzo per affrontare i pericolamenti. Arriviamo bene, carichi, consapevoli che dobbiamo affrontare questa partita tranquillita, come se fosse la partita di campionato, e salvarci a tutti i corsi.